Di presentazione di questo nuovo impianto, sul palco è salito Luciano Gandini che è il responsabile comunicazione di Amio Genova e da lui direi arriverà la descrizione di questa giornata ma soprattutto il maestro di cerimonia come si dice in questi casi per dare ai diversi relatori la parola e allora se la regia mi fa un ok direi che possiamo subito sentire direttamente ciò che il dottor Gandini dal palco di Scarpino sta dicendo. Un saluto e un ringraziamento per essere presenti anche ai componenti dei consigli di amministrazione dei collegi sindacali sia di Amio Genova che di IREN e ai dirigenti all'ambiente di Comune di Genova, di Città Metropolitana e di Regione Liguria. Ovviamente un saluto doveroso a tutti i colleghi di Amio e di IREN presenti. Iniziamo quindi la parte di saluto e introduttiva e poi vi spiego che cosa accadrà nella seconda parte per la posa della prima pietra. Quindi invito il presidente di Amio, Pietro Pongiglione, a raggiungermi sul palco. Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a Scarpino. La giornata di oggi mi suscita tre sentimenti. Un sentimento di orgoglio, un sentimento di omozione e un sentimento di responsabilità. Orgoglio perché siamo su un sito che poco tempo fa veniva considerato da chiudere, da dimenticare, da cancellare dai libri di storia, da non voler neanche più sentire nominare. Anche la nostra azienda era in una fase difficilissima. Invece grazie al nostro personale, grazie all'amministrazione, che peraltro voglio salutare, nella persona del sindaco Marco Bucci, però anche approfitto, scusate che non l'ho fatto prima, di salutare e dare il benvenuto in particolare al presidente Giovanni Totti, all'assessore Matteo Campora, ai cappellani del lavoro che sono sempre molto vicini all'azienda. e all'amico Massimiliano Bianco di IREN. Ecco, devo dire l'orgoglio di essere riusciti a trasformare questo sito da dimenticare in un sito vivo. Un sito vivo, vitale e utile alla nostra città. La nostra città ha bisogno, come gli altri comuni che AMIU serve dal primo gennaio scorso, hanno bisogno di essere pulite e di chiudere il ciclo dei rifiuti. Grazie appunto al nostro personale e alla volontà dell'amministrazione, siamo arrivati alla giornata di oggi per dare nuova vita al sito di Scarpino. Per noi è un momento molto importante ed è un momento che insieme a questo motivo di orgoglio ci emoziona. Ci emoziona perché noi abbiamo 1700 persone circa che lavorano nell'azienda, che tutte ovviamente pensano non solo al proprio posto di lavoro, ma anche all'importanza del lavoro che svolgono. Perché il lavoro della gestione dei rifiuti e quindi della tutela e salvaguarda dell'ambiente è un qualche cosa che va al di là dell'attività fatta per ottenere alla fine del mese uno stipendio. Ma è un qualche cosa che suscita una volontà di fare e di portare a un risultato che va a beneficio di tutti. Insieme a questo c'è un'emozione che è quella di sapere che i 700.000 persone circa, cittadini che sono serviti dalla nostra azienda, da domani mattina possono contare su una gestione più completa, su una massimizzazione dei risultati ottenibili e su una solidificazione, su una crescita patrimoniale dell'azienda per noi, che oggi siamo qua, per i nostri figli e per quelle che saranno le generazioni future. Amio quindi oggi è veramente orgogliosa di questo e non è soltanto questo però Amio, perché dal punto di partenza che oggi noi vogliamo avere in questa posa simbolica della prima pietra, noi consolidiamo una vocazione moderna, una vocazione moderna della nostra azienda che si sviluppa non solo in questo sito, ma negli altri siti produttivi e negli altri siti di riciclo che Amio ha acquisito negli ultimi tempi. È anche un motivo di responsabilità, come dicevo, perché chiaramente non basta raggiungere un obiettivo, ma bisogna poi meritare i risultati. Il nostro personale è sicuramente dedicato a questo, è un personale qualificato che riesce a coniugare quella che è la gestione di tutti i giorni con quelle che sono le visioni future. Io credo che questa giornata, appunto, importante per noi, importante per un'azienda, per una città come quella di Genova, che vede un'azienda con una prospettiva così importante, con un contratto di servizio che dal primo gennaio scorso, per 15 anni, serve 31 comuni, con un corrispettivo totale di 2 miliardi e 300 milioni di euro, che consentono di potersi consolidare anche attraverso il credito bancario e poter dare veramente una visione futura e una chiusura del ciclo di rifiuti con una città pulita ed una differenziata sempre più importante. Sono anche personalmente un po' emozionato perché per me è stato il primo atto, quello della firma del contratto con IREN per la costruzione di questo impianto. Certamente era un percorso già avviato e un percorso che doveva soltanto essere formalizzato, ma il fatto di avere la possibilità di rappresentare oggi un'azienda che ha una prospettiva nuova e positiva per me è un motivo anche personale di grande emozione. Quindi ringrazio ancora tutti e lascio la parola al dottor Bianco. Grazie. Massimiliano Bianco, amministratore delegato di IREN. Grazie, grazie Pietro. Buongiorno a tutti. Buongiorno Sindaco, Presidente e tutti i colleghi. Anche per noi è una grande responsabilità. IREN è un gruppo diversificato, ma nella filiera dell'ambiente ha investito molto negli ultimi anni e oggi è tra i principali operatori. Avere l'opportunità, per conto di IREN, di collaborare ad un progetto così importante, ossia la realizzazione di un impianto che consentirà la chiusura del ciclo, ossia qui verranno trattate le componenti indifferenziate per sfruttare attraverso l'impiantistica che realizzeremo ancora la materia, selezionandola e creando delle nuove filiere, carta, plastica, combustibile, CSS per valorizzazione energetica. Un impianto importante per il gruppo, ma quello che ci tengo a sottolineare è come la collaborazione che ha appena citato il Presidente Pongiglione è nata. È nata con uno sforzo importante da un punto di vista progettuale. È nata sotto una spinta determinante del Comune di Genova, funzionale a mettere al servizio della città le aziende della città, farle lavorare insieme, farle lavorare bene per dare poi un servizio adeguato ai cittadini. Ed è quello che dimostreremo nei prossimi mesi realizzando questo impianto, che già in primavera del 2022 inizierà a ricevere rifiuti e poi tutto il 2022 ci vedrà impegnati nella messa a punto. Però orizzonti temporali ravvicinati che dimostreranno le capacità industriali del gruppo a servizio di Amio e della città. Quindi davvero per noi sarà un tassello importante nella storia industriale del gruppo che dimostreremo sul campo nei prossimi mesi. Grazie. Chiamo ora sul palco il Sindaco di Genova, Marco Bucci. Bene, buongiorno a tutti. È un momento importante per la nostra città. Un momento che la nostra città desidera da tanto è la possibilità di concludere e di chiudere il ciclo dei rifiuti o di essere molto vicino alla chiusura totale del ciclo dei rifiuti. Una cosa che ciascun cittadino genovese vede in maniera assolutamente positiva a cui vuole partecipare. Oggi io ringrazio l'azienda IREN, ringrazio Amio ovviamente che ha fatto tutto il lavoro, ringrazio IREN che si è associata a noi per fare questo tipo di lavoro. I cittadini genovesi parteciperanno a questo, sono sicuro. Parteciperanno anche con una grande volontà di completare la raccolta differenziata, cioè iniziare dalla casa di ciascuno a fare la raccolta differenziata che è quello che noi vogliamo e tenendo presente che uno dei quartieri della nostra città, che è il centro storico, uno dei quartieri forse più difficili da questo punto di vista, invece ha raggiunto un record di quasi 60% di raccolta differenziata. Quindi si può fare, si deve fare e qui con questo impianto noi chiudiamo il ciclo e andiamo a prendere anche tutte le altre frazioni dei rifiuti. Quindi questo è un punto strategico, è un punto operativo, è quello che la nostra città vuole. Io veramente sono contento, ringrazio tutti, ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio anche quelli che in futuro collaboreranno a far sì che questo sia anche un modo nuovo di vedere le cose, un modo nuovo di capire che le aziende si associano, lavorano assieme attraverso il project financing, e questo è un risultato operativo molto importante per tutti i cittadini, perché alla fine aiuta a investire sempre di più in un modo che è assolutamente conveniente per i nostri giorni e che fa sì che ci si possa, come diceva prima il Presidente di Amiu, investire i nostri capitali per tutta una serie di altre attrezzature e farci aiutare da altre aziende che hanno tutta l'esperienza per fare questo tipo di impianti. Questo è un sistema sinergico, aziende nelle quali poi ovviamente l'amministrazione di Genova ha un capitale e una posizione assolutamente importante. Quindi vedete, quando si fanno le cose assieme, noi a Genova l'abbiamo dimostrato, quando ci tiriamo sulle maniche tutti assieme riusciamo a fare cose che tutto il mondo ci invidia. Quindi anche questa è una cosa importante, vi dico grazie a tutti voi, continuiamo così, non vedo l'ora di essere qui a festeggiare il primo camion che fa il passo del Pordoi, cioè scusate, volevo dire che arriva sino qui e è stata una strada non da poco e che ci porta i rifiuti. Grazie a tutti. Infatti non abbiamo preparato nessun buffet per evitarvi problemi all'arrientro. Cambiamo il microfono per i protocolli Covid e chiediamo al Presidente della Regione, Giovanni Totti, di raggiungerci sul palco e di portare il saluto della Regione, visto che questo è un impianto che guarda ben oltre al territorio della città di Genova. La strada è complicata, ma la vista è bellissima. Allora, che possiamo dire? Avete già detto molto, diciamola così. Nella storia normalmente, la storia è un flusso, come la vita delle persone, non è che cambia in un giorno, cambia normalmente nel lavoro e nel crescere delle singole persone, delle collettività nel corso del tempo. e talvolta questo cambiamento non si percepisce. Poi ci sono delle giornate che invece di colpo non vengono da sole. Questo impianto che oggi diamo il via al cantiere non nasce ovviamente oggi e non finirà oggi. Ma ci sono delle giornate simbolo che diventano un po' lo spartiacque tra quello che c'era prima e quello che viene dopo. Io credo che questa sia una di quelle giornate è una di quelle giornate in cui oggi celebriamo molte cose nel mettere una prima pietra. Lo ha detto prima il Presidente Pongiglione, nel parlare di Scarpino a Genova si parlava come di una bomba ecologica, dalla peggiore gestione del ciclo dei rifiuti, forse del centro-nord Italia, qualche cosa che riguardava più le indagini della magistratura che non la vita dei cittadini nelle proprie case. Era il peggiore esempio da portare quando si voleva parlare di un Paese che non sa gestire il proprio ambiente, il proprio ciclo integrato, la recupero dei materiali. Oggi anche solo venendo qua ci si rende conto che non è più così. Basta entrare e varcare il cancello per capire che qualche cosa è cambiato nell'approccio di questa regione, di questo comune, di questa azienda al mondo dei rifiuti. Lo stesso vale per quanto riguarda Amio. quando Marco è diventato sindaco di Genova, ormai qualche anno fa, il tema Amio campeggiava sulle pagine dei giornali come un'azienda a cui bisognava trovare un destino anche di sostenibilità finanziaria, qualche cosa che non aveva un futuro e che era una dolorosa necessità tenere in piedi. Oggi, dopo tre anni e mezzo di lavoro, e vedo anche l'assessore Campora che ringrazio, è diventata una risorsa per il comune, non più un peso. Ed è diventato un partner strategico per un'altra azienda che in questo territorio ha una storia importante come IREN e dovrà averla sempre di più. Io di tutto questo sono molto orgoglioso perché a fronte delle critiche che talvolta ci vedono indicati come un'amministrazione regionale, di una parte politica che ha poca attenzione per il mondo dell'ambiente, per la conservazione del nostro territorio, al contrario oggi qua celebriamo un esempio virtuoso e per la verità ne avremmo molti da celebrare di esempi virtuosi. Io ricordo che nel 2015, quando sono stato eletto presidente di questa regione, campeggiava sul mio tavolo di lavoro il rapporto della Commissione parlamentare sul ciclo integrato dei rifiuti che parlava di una Liguria all'anno zero, sia per il ciclo delle acque, sia per il ciclo dei rifiuti. Oggi stiamo crescendo sulla differenziata, l'ha detto prima il Sindaco, in modo importante da tutte le parti. Stiamo mettendo in equilibrio le aziende che si occupano dell'ambiente in tutti i comuni importanti della regione. Prima di salire su questo palco parlavo con Bianco di Savona, che è un'altra grande operazione di messa in sicurezza. Abbiamo costruito biodigestori, altri ne stiamo costruendo, da Spezia a Cairo-Montenotte. Abbiamo, ed è la prima volta, ed è stata anche una scelta dolorosa farlo, commissariato lato idrico del Ponente, perché in un territorio dove ancora talvolta si fa fatica ad avere l'acqua nelle case, ad avere un sistema di depurazione che funziona, c'era bisogno di dare una svolta. Perché per una regione come la Liguria l'ambiente non è qualche cosa di superfluo o qualche cosa di ornamentale, è qualche cosa di strutturale, è qualche cosa che fa parte stessa di quegli asset, di quei beni che le aziende, e la regione Liguria è anche un'azienda perché deve dare ricchezza ai suoi cittadini, iscrivono a bilancio. Quindi io credo che oggi sia un momento davvero importante. Dobbiamo andare avanti in questo senso e andarci speditamente e convintamente, perché credo che da tante giornate come oggi si costruisca non solamente un mondo migliore nel vero senso della parola, cioè meno inquinato, si costruisce un modello di sostenibilità, quell'economia circolare di cui ci si riempie tanto la bocca e molto spesso si fa molto poco per farlo, si fanno posti di lavoro che rendono più ricca la nostra regione invece di perdere dei soldi, delle tasse dei cittadini in operazioni di minor pregio economico e soprattutto si presenta, basta affacciarsi, ora voi non lo vedete, ma io qua ho un panorama straordinario che avete visto anche voi girati fino a pochi minuti fa si preserva uno degli ambienti più belli del mondo e che credo che questo sia il compito di chiunque fa amministrazione in Italia in generale, è il paese più ricco di biodiversità, più ricco di arte, di cultura, di storia, di tradizioni e credo che preservarlo sia un po' il compito che tutti noi dobbiamo prendere come il primo comandamento della regola del buon politico e quindi è una buona giornata e faccio i complimenti a Marco che ha voluto con grande pervicaccio a questo impianto, ovviamente alle due aziende, ad Amio e Diren che collaboreranno e molto abbiamo ancora da collaborare e molto faremo ancora perché io voglio portare una nuova legge di riforma organica del ciclo dei rifiuti in Consiglio regionale prima dell'estate che ci consenta di avere quei volumi integrati in tutta la regione da Sarzana a Ventimiglia che ci consentano ulteriori investimenti sull'intero ciclo dell'ambiente e quindi solamente un piccolo passo ma come ha detto qualcuno una volta è un piccolo passo per l'uomo ma un grande passo per l'ambiente della Liguria. Buona giornata a tutti. Grazie Presidente ovviamente non è finita qui perché abbiamo bisogno ancora di voi adesso vi chiedo di seguire un attimo le mie indicazioni da vigile urbano anzi Sindaco se poi vuole considerare la mia candidatura chiedo al Sindaco di Genova al Presidente della Regione al Presidente di Amio all'amministratore delegato di IREN di seguire la passerella nera che vedete alla mia destra di raggiungere insieme ai fotografi chiedo a tutti i colleghi di rimanere qua quindi solo ai fotografi e telecamere di seguire il percorso quindi Presidente se fa strada e accompagna i nostri ospiti sul luogo della cerimonia mentre voi vi recate sul luogo della posa della prima pietra io chiedo ai capellani del lavoro che abbiamo il piacere di avere qui in forza perché abbiamo i due vicepresidenti della fondazione Armo assistenza religiosa morale operai che appunto sono più noti come capellani del lavoro sono venuti in due perché uno è il capellano del lavoro di Amio che è Don Giampiero Carzino che è invito sul palco e l'altro è il capellano del lavoro di IREN Don Massimiliano Moretti che invece è insieme ai nostri ospiti si sta recando sul luogo della posa della prima pietra Don Carzino a lei la parola sono qua per portare ovviamente il saluto del arcivesco Tasca che è fuori sede in questa settimana come abbiamo detto siamo i due capellani delle aziende ma vorrei anche in questa occasione reggervi poi la preghiera che Don Massimiliano fa sulla prima pietra perché non essendoci in microfono non si sentirebbe un'occasione molto bella per noi perché dove c'è lavoro dove c'è occasione di portare attività che sviluppano la città e ci sarà anche un aumento occupazionale è sempre una festa per noi e la Chiesa di Genova è sempre vicina a queste occasioni soprattutto in questo periodo di pandemia poi qui si tratta anche di tutelare l'ambiente quindi ancora di più un'occasione in cui noi sentiamo di essere vicino all'impegno che si sta mettendo sappiamo che questo diventa anche un messaggio per le nostre realtà perché costruire un impianto che riesce a recuperare ancora qualcosa da indifferenziata ci impegna ancora di più a essere attenti nelle nostre case a quello che facciamo allora leggo ora la preghiera che Don Massimiliano sta per leggere durante la benedizione della prima pietra se ci riesco prego Don Carzino che sono state pronunciate dal palco qui allestito a Scarpino per la posa della prima pietra e proprio alle mie spalle con le immagini della nostra squadra sentiamo intanto la preghiera dedicata a Scarpino e i loro strumenti di lavoro fa che mediante la loro perosità e il tuo aiuto manifestino le meraviglie della creazione e procurando il giusto benessere delle proprie famiglie promuovano il progresso dell'intera società a lote della tua gloria per Cristo nostro Signore Amen grazie a Don Giampiero Carzino per aver portato il saluto dell'Arcivescovo e per aver letto la preghiera della posa della prima pietra quindi adesso i nostri ospiti prenderanno in mano una cazzuola a testa come vedete stiamo riempendo la carriola con il cemento che abbiamo mantenuto pronto nella betoniera aspettando questo momento ancora qualche secondo e i nostri ospiti a cui potete già consegnare la cazzuola quindi potete consegnare una cazzuola al Sindaco di Genova Marco Bucci al Presidente della Regione Giovanni Totti al Presidente di Amio Pietro Pongiglione all'amministratore delegato di IREN Massimiliano Bianco e allora vedete in questo momento con le immagini della nostra regia esterna qui a Scarpino sta cominciando il momento topico di questa cerimonia con la posa della prima pietra in realtà sarà la posa di una di una scatola che è stata popolata con la preghiera letta poco fa da Don Carzino ci sarà la benedizione ufficiale naturalmente di questo cantiere che oggi prende definitivamente il via e che sarà completato secondo le ambizioni di Amio di IREN entro circa un anno dal momento di via dei lavori come vedete c'è una carriola che è stata messa in servizio con un po' di cemento che arriva dalla betoniera che sta lavorando proprio di fronte al punto della cerimonia e tra poco appunto il presidente Toti l'amministratore delegato di IREN Bianco ci sono il presidente di Amio Pongiglione e il sindaco di Genova Marco Bucci si armeranno di cazzuola e andranno proprio a diciamo essere operativamente loro i responsabili di questo via al cantiere per Scarpino in questo appunto sistema questo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti che è considerato molto importante per quel che riguarda la città di Genova momenti ovviamente cruciali è il maestro di cerimonia della giornata e cioè Luciano Gandini che è il responsabile della comunicazione di Amio Genova sta continuando la descrizione per gli ospiti che sono presenti qui anche se naturalmente tutte le persone si stanno assiepando proprio vicine alla nostra postazione per poter vedere meglio il punto della cerimonia ed ecco qui il momento in cui con la cazzuola e il cemento il presidente Totti il sindaco Bucci e l'amministratore delegato bianco il presidente Pongiglione andranno proprio a riempire questo diciamo almeno inizialmente questo diciamo così questo basamento dove appunto poi cominceranno formalmente i lavori e qui nascerà peraltro un impianto di grandi dimensioni che di fatto andrà a occupare tutta l'area che è al momento alle nostre spalle con appunto una grande capacità di gestione dei rifiuti queste le immagini che arrivano in diretta direi sicuramente importante pensare che quando appunto questo impianto sarà finito questa scatoletta che questa mattina abbiamo avuto l'occasione di fotografare sarà appunto immersa nel cemento e appunto sarà stata noi ce l'auguriamo bene augurante per questo impianto che appunto comincerà a prendere forma a partire dalla giornata di oggi alla cerimonia hanno partecipato Don Giampiero Carzino che ha letto la lettera e ha portato i saluti del cardinale dell'arcivescovo di Genova il Monsignor Tasca mentre sul posto c'è Don Moretti che invece si sta occupando proprio della benedizione proprio in questo momento Don Massimiliano Moretti che sta benedicendo il luogo in cui è stata posizionata la scatola con la preghiera e dove appunto simbolicamente le autorità hanno posto la prima pietra di questa di questo nuovo cantiere dunque si completa qui la cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di Scarpino entro un anno dovrà essere operativo ovviamente continueremo a seguire l'evoluzione anche di questo cantiere e con il contributo della regia mobile di Primo Canale Production la linea può tornare allo studio Grazie 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 Matteo Cantile Produzione Primo Canale Production ricordatelo questi momenti che entrano necessariamente a prescindere nella storia della nostra città nella storia che sarà poi quella di tutti i giorni il conferimento dei rifiuti sono quelli che noi tutti i giorni conferiamo nel famoso cassonetto o meglio che differenziamo perché penso siamo in grado di differenziare penso siate in grado cari degli spettatori di differenziare e così finalmente un passo avanti si dice in questi casi un passo concreto il cemento lo abbiamo visto quelle griglie che lo imbriglieranno le abbiamo viste e nasce così la nuova Scarpino io vado in regia qualche secondo non perdiamoci di vista telespettatori anche perché c'è Scarpino c'è quella situazione drammatica in autostrada penso ormai si possa dire purtroppo una persona è morta in seguito di questo terribile incidente vi faremo vedere purtroppo dolorosamente delle foto agghiaccianti è accaduto questa mattina sull'autostrada a 10 la Savona Genova tra Renzano e lo svincolo a 26 vedete la lunga coda lunga teoria di mezzi che hanno paralizzato ormai da quasi tre ore l'autostrada e purtroppo l'eloquenza di